Musica Ultima puntata di Tra le righe incontro con l'autore a conclusione di questa stagione che ha visto protagonisti, diversi scrittori in collegamento Skype o anche dal vivo che ci hanno presentato i loro libri beh oggi abbiamo una creditissima sorpresa e qui nei nostri studi Don Francesco Armenti Ciao, bentrovato, pace e bene Pace e bene Paola, ti ringrazio dell'accoglienza ma anche a me fa piacere ogni tanto fermarmi a casa Ecco, fermarti a casa, infatti sei uno di famiglia, i nostri amici telespettatori ti ricordano, ti conoscono con dritto al cuore però prima il sorriso della vita Nonostante tutto Esatto Mi inondano di mail Siamo contenti anche di questo Contentissimi, solo che devo passare, ecco approfitto per dire ai nostri telespettatori dovete avere un po' di pazienza perché io poi devo rispondere a tutti perché poi molti vedono che dopo due giorni che non rispondono me la rimandano Allora abbiate pazienza Pazienza, risponderò a tutti Prima che morirò risponderò a tutti Allora Don Francesco, tu sei appunto uno scrittore, giornalista, conduci questo programma su Padre Pio TV 5 minuti di riflessione al giorno, però sei anche postulatore della causa di beatificazione del servo di Dio Don Francesco Maria Vassallo a cui hai dedicato un libro, una biografia che riassume punto per punto La vita e la spiritualità straordinarie nell'ordinario di Don Francesco Maria Vassallo Fammi pane per tutti Editrice Velar Che significa fammi pane per tutti? È una frase di Don Francesco? Sì, questa è una frase che Don Francesco Vassallo scrive in una sua preghiera E lo scrive proprio all'inizio del suo ministero sacerdotale In cui dopo aver riflettuto un po' sulla sua vocazione Dopo aver pregato, è una bella anima mariana Don Francesco Vassallo Dopo aver pregato Maria dice al Signore fammi pane per tutti Per tutti, queste parole sono l'essenza del ministero sacerdotale Cioè fa che io diventi nutrimento per gli altri Quindi pane perché il ministro, il sacerdote è il ministro dell'eucaristia Il pane della, quindi eucaristico è il pane della misericordia La confessione, la direzione spirituale, la consolazione Ma anche poi il pane materiale, cioè fammi pane e cibo anche per i poveri Come hai avuto modo Don Francesco di avvicinarti, di conoscere la figura di Don Francesco Vassallo? Beh, Don Francesco Vassallo è un prete della mia diocesi Anche io se ormai... E la tua diocesi è? La mia diocesi è Sansevero Foggia Lui è un sacerdote, è un prete della mia diocesi È una delle tre stelle della diocesi di Sansevero Insieme a Monsignor Felice Canelli Di cui già si è conclusa la fase diocesana Insieme a padre Matteo D'Agnone Che è un cappuccino e che speriamo quando prima di vederlo agli onori degli altari E poi c'è lui, questo altro sacerdote Un sacerdote che fino a un certo punto ha vissuto in un certo senso nell'ombra Ricordo una persona che mi ha detto che da lontano, pur non comprendendo che lui era prete Lui capiva che era un mistico E io l'ho conosciuto perché ha fondato nella mia diocesi Il movimento missionario Cenacolisti Che è composto da preti, da suore consacrate, da laici, da famiglie C'è anche un altro ramo che sarebbero le contemplative del Cenacolo Ma non ancora il signore Dona Ho conosciuto questa figura tramite loro E anni fa proprio mi hanno chiesto di fare una raccolta di scritti E così abbiamo scelto alcuni scritti Ed allora io ho iniziato proprio a innamorarmi Perché quando vuoi conoscere la vera spiritualità di un santo Anche se la chiesa lo deve ancora riconoscere Devi andare quando è possibile negli scritti Perché poi non tutti scrivono E Don Vassallo ha scritto tanto, tanto, tanto Ed è bello ma anche molto faticoso Perché lui scriveva di getto Cioè, perché scriveva di getto? Non solo perché era occupato Ma soprattutto, come vedo io Perché erano ispirazioni che riceveva e buttava giù È stato anche un grande evangelizzatore Quello che mi colpisce è una bella foto Che viene, che è riportata E che soprattutto inquadra, fotografa La bicicletta di Don Vassallo Utilizzata nelle missioni di quartiere Quindi, voglio dire, non è da tutti utilizzare un mezzo Anche faticoso se vogliamo Perché la bicicletta C'è la fatica di pedalarci, no? Di metterci impegno Fatica fisica Per andare a evangelizzare E quindi, come dire, ecco Questo amore per la gente Portare alla gente la parola di Dio Il Vangelo Don Francesco aveva il pallino Tra virgolette La passione del Vangelo Lui si è consumato per il Vangelo Ed è stato in un certo senso Anche anticipatore Di certe idee del Concilio Vaticano II Ed è la stessa parola Nuova evangelizzazione Che poi è nata soprattutto Con Giovanni Paolo II Ma già qualcuno In precedenza, qualche pontefice Ne aveva parlato Lui era parroco in questa parrocchia Santuario Di Santa Maria della Fontana In Torre Maggiore Che è un piccolo centro Vicino San Severo Sono sette chilometri E il suo Non dormiva la notte Per pensare come arrivare alla gente Non si accontentava di restare in chiesa Allora si è inventato Le missioni di quartiere Ha preso un gruppo di laici Qualcuno di questi oggi è consacrata E li formava all'evangelizzazione Ogni settimana Preparava un commendo Al brano del Vangelo Un annuncio E mandava questi apostoli Chiamiamoli così Del Vangelo Li mandava nei quartieri Soprattutto nelle zone più povere Quindi Con questa bicicletta Mi auguro che poi la regia la possa far vedere Vedete C'hanno questi megafoni Andavano Si fermavano a un certo punto E leggevano il messaggio Che il parroco Mandava ai suoi parrocchiani Ecco qui come torna E qui fammi fare un accostamento Forse un po' Come dire Azzardato Ma oggi noi siamo Grazie a Dio Abituati Anche al discorso che fa il Papa Di andare nelle periferie Beh Don Francesco L'ho anticipato L'ho anticipato E già ai suoi tempi Questi sono poi I frutti dello spirito Che solo dopo tanto tempo Noi riconosciamo Ecco Don Francesco Che cosa Quale eredità spirituale Secondo te Anche appunto Alla luce di quello Che tu hai potuto leggere E studiare Don Vassallo Ci ha lasciato E perché Credo comunque sia Una figura attuale La sua Una spiritualità Come dicevo prima Straordinaria Però nell'ordinario Sì ma ecco Consentimi qui Di fare un piccolo Una piccola introduzione I Santi Di per sé Anche quelli della Porta a Cando Di cui parla Papa Francesco Ma anche i Santi Che poi vengono canonizzati Riconosciuti La gran parte Sono Santi Perché hanno vissuto La fede La speranza La carità E le altre virtù Nell'ordinario Della loro vita Quando parliamo di virtù Eroiche Non si intendono Virtù Vissute In maniera Plateale No Ma eroiche Perché si sono consumate Per la fede Queste Queste persone Per la fede Per la speranza Per la carità Per l'aiuto ai poveri Ecco E allora lui Lui è stato un prete Che si è consumato Per il Vangelo Si è consumato Per il suo popolo Per me questa figura Insieme anche ad altre Anzitutto è un modello Di spiritualità Ed è un modello Per i sacerdoti Guardare a lui Per prendere A motivo Così Stili E imitare poi L'unico vero sacerdote Che è Cristo Lui è stato sempre In mezzo al suo popolo Ha amato quel popolo E si è consumato Per quel popolo E oggi Presentare queste figure Ma anche altre figure Di sacerdoti In un mondo dove C'è la pretofobia A causa della pedofilia O degli abusi Che ahimè E con vergogna Dobbiamo ammettere E riconoscere È molto importante Perché c'è tanto bene Che i preti combiano Fanno Nel silenzio Senza Andare sempre Agli onori della cronaca Però purtroppo Come dice un vecchio adagio Fa più rumore Una foglia che cade Che una foresta che cresce E poi Ecco l'altra Secondo me Lui è un uomo Che ha incarnato Le beatitudini Perché chi vive il Vangelo Chi lo annuncia Chi lo testimonia Come lo ha fatto Don Vassallo Ha vissuto Le beatitudini E io Lo rivedo Soprattutto Nella beatitudine Della povertà Di spirito Perché era Un uomo fondamentalmente Ricco del Signore Bisognoso di Dio Chi sono i poveri di spirito? Quelli che hanno bisogno di Dio E lui Ha sempre vissuto Con questo bisogno interiore E lo ha trasmesso Anche ai suoi figli spirituali Che ancora oggi Vivono Della sua direzione spirituale Ecco qui possiamo accostarlo Anche a Padre Pio Non so se tra i due C'è stato qualcosa Non ancora ci arriviamo A quello Però Io credo Conoscendo un po' Lo stile pedagogico Della direzione spirituale Di Padre Pio E conoscendolo Anche quella Di Don Vassallo Credo che tutte e due Abbiano degli elementi comuni Ma di questo Magari farai Scriverai Potrai scrivere Un altro libro Vedremo Lo voglio consigliare I nostri amici Telespettatori Perché È come un po' Anche nello stile Di Don Francesco E Questa è Una Mini biografia Di Don Vassallo Molto asciutta Molto sintetica E ci sono delle foto Ci sono i suoi scritti Quindi comunque Vi potrete davvero Immergere Nella vita Di Don Francesco E Captando le cose Più significative Poi magari Se Qualora vogliate Approfondire La sua vita I suoi scritti Magari Ci si rivolge Al movimento missionario Cenacolisti Allora Il libro Edito dalla Velar Si intitola Il servo di Dio Don Francesco Maria Vassallo Fammi pane per tutti A cura di Don Francesco Armenti Bene Concludiamo Questa stagione Di Tra le Righe Pensa un po' Guarda anche un po' La nostra stagione televisiva Da Parincesto Si conclude con te Non so se vuoi augurare qualcosa I nostri amici Approfitto Dai Mi auguro che questa conclusione Con lo scrivente Sia un motivo di gioia per tutti Ma soprattutto voglio augurare a te Un buon riposo E una buona ripresa E lo so Ma ecco anche una buona ripresa Perché ti conosciamo come una collega Ma ancora prima un'amica seria Professionalmente valida E molto anche Come dire intuitiva E poi auguro ai nostri Telespettatori una cosa Leggete Leggete Durante l'estate Anche sotto il sole Si può leggere Sotto lo meglio Sotto l'ombrellone Eh va bene Io non lo amo Al sole sotto l'ombrellone Sant'Agostino sapete che cosa dice? Dice che chi non legge mai È come un uomo che non ha mai viaggiato Ecco E chi non viaggia è come un uomo che non ha mai letto Ma in genere sai Chi viaggia ama leggere E chi legge ama viaggiare È proprio così Don Francesco grazie di cuore per averci dedicato il tuo tempo E grazie a voi tutti per averci seguito anche in questa stagione di Tra le righe Appuntamento a settembre del 2019